Il Governo Gentiloni, esattamente come il Governo Renzi, incespica nelle contraddizioni in tema di trevellazioni in Calabria. Io ho presentato un'interrogazione parlamentare alla numero 415118, che intendo sollecitare risposta, nella quale praticamente riporto un fatto abbastanza strano, ovvero il Ministero del Gruppo Economico concede questo permesso di ricerca alla DR74, dicendo che non ci sono elementi ostativi per fermare questo pozzo esplorativo. Parliamo di un pozzo su terraferma che perforerà il terreno di almeno 1.500 metri, però, secondo la nuova legge di stabilità in tema di trevellazioni, non potrà poi usufruire eventualmente della risorsa da estrarre. Quindi si fa un pozzo per poi non poter estrarre il gas o l'eventuale petrolio. Allora, che cosa serve questo pozzo? Io vorrei subito una risposta da parte del Ministro del Gruppo Economico e del Ministro Galletti, perché non si può autorizzare la Panina Energy a fare questo pozzo senza poi neanche poter estrarre quello per cui era stato costruito il pozzo. Parliamo di una zona protetta a livello regionale, a livello naturalistica, un sito di interesse comunitario, rischiamo una procedura di infrazione, il Governo intervenga al più presto, la Calabria non si trivella.